mister prima gara da tre punti vinta soprattutto con grande impegno grande grande applicazione la cosa che più risaltata nel 90 minuti con un avversario molto ostico su un campo comunque complicato penso all'impegno di tutti gli undici ma anche ad esempio due giocatori d'attacco come romano e doci che anche in fase di ripiegamento non hanno mai fatto mancare il loro loro apporto sì questa è la cosa che mi ha fatto più più piacere l'impegno di tutti ad aiutare anche delle punte a partire da rapetti che è sempre generosissimo ma anche da giocatori che hanno caratteristiche diverse come docce come romano che sono venuti ad aiutare i compagni in mezzo al campo sapevamo che era una partita fatta molto di contrasti di seconde palle si poteva risolvere su una punizione su un corner e così è stato è una buona prestazione che sicuramente per noi fa morale parlavamo anche a microfoni spenti delle portanze di un giocatore come rizzo che insomma da ordine da soprattutto tanta fisicità davanti alla difesa e poi vi amplia anche il parco delle scelte in mediana perché poi quando c'è la possibilità di fare entrare di roccia in corso d'opera ad esempio anche pondo che abbiamo visto si inizia a percepire quella che può essere l'importanza comunque di un organico quasi al completo ormai assolutamente sì oggi l'abbiamo visto riccio in mezzo al campo un giocatore fondamentale ma ti puoi permettere dei cambi con di roccia con pondaco con lo stesso palumbo che non è entrato perché fino adesso non si è potuta allenare e abbiamo fuori dobbiamo ricordarci abbiamo fuori cucci abbiamo fuori ferrara la squadra c'è la squadra sicuramente per l'inizio del campionato tra tre settimane sarà pronta a livello invece mentale non sembrano esserci stati comunque contraccolpi anzi rispetto magari a quello che è successo la settimana scorsa sicuramente c'è stata una reazione anche da parte del gruppo l'orgoglio è venuto fuori la volontà di far vedere che questi sono ragazzi validi sono ragazzi che io ho scelto dei quali io mi assumo la totale responsabilità e sono sicurissimo che faranno un campionato di vertici